Tratta tutto è offerto da Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mab Management punto it. Supersound presenta Tratta tutto, la Sardegna, senza segreti. Attualità, commenti, notizie e interviste raccontati da Vittorio Sanna con la musica di Supersound. Tratta tutto, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20. Salve a tutti, grazie per l'invito. Salve a tutti, oggi vi parliamo un po' di noi. La nostra azienda si chiama Samola e ci troviamo a Escolca, a un piccolo centro della Sardegna meridionale. Iniziò tutto nel 1913, quando un nostro avo, già proprietario di Olivetti, acquistò una casa al centro del paese con annesso frantoio, che mise subito in funzione. E iniziò così l'attaccamento della mia famiglia per l'olivicultura. Ora noi siamo la quarta generazione e la nostra mission è sicuramente quella di proseguire la tradizione di famiglia, con alle spalle tanta esperienza e competenza. Noi produciamo un olio extravergine d'oliva di qualità e da qualche anno abbiamo voluto diversificare e ampliare la nostra offerta inserendo anche una linea di oli aromatizzati. Da un po' di tempo ci siamo affacciati sul mondo dell'olioturismo e organizziamo delle visite guidate, riceviamo gli ospiti all'interno della nostra azienda con annesso museo etnografico e raccontiamo la nostra storia olivicola fatta di quattro generazioni, descrivendo tutti i sistemi di estrazione susseguitesi nelle varie epoche fino ad arrivare all'attuale impianto moderno. Spieghiamo quindi tutta la filiera olivicola dalla raccolta al confezionamento dell'olio. Passeggiando tra gli olivi centenari i visitatori vengono catapultati in un percorso esperienziale di degustazione dei diversi oli che noi produciamo e oltre a un minicorso di degustazione vengono proposti in abbinamento con altre eccellenze del territorio i nostri oli aromatizzati. Potete visionare la nostra storia, acquistare i nostri prodotti direttamente sul nostro e-commerce, prenotare delle visite sul nostro sito www.oliosamola.com Tante grazie, buona giornata, grazie. Trattatutto è offerto da Mab&Co Formazione e strategie per l'evoluzione del business MabManagement.it